Prosegue alla Facoltà di Biotecnologie a Torino il ciclo di incontri il lunedì pomeriggio sulla prevenzione della salute, organizzato in collaborazione con gli Stati Generali dello Sport del Consiglio regionale. Tutti lunedì, con orario 16.30-18.30, medici, esperti di comunicazione, docenti universitari, approfondiscono in maniera multidisciplinare stili di vita, alimentazione, ambiente e movimento. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.